Gli avvocati per dare un po' di sorriso ai più bisognosi, ieri avete portato qualcosa? Sì, ieri siamo riusciti a consegnare qua alla parrocchia tanta famiglia di Palmi, 75 tra panettoni e pandori da donare alle famiglie più bisognose. Abbiamo coniato allora questo slogan, dono un panettone per un sorriso. È vero, non è un bene di prima necessità il panettone, però è un simbolo natalizio delle feste. E in questo momento forse la cosa più bella è riuscire a regalare un sorriso. Altro per tanti motivi non è possibile o non ci riusciamo, ma un sorriso penso lo possiamo fare, lo riusciamo a fare volentieri tutti. La cosa più bella di questa iniziativa è che siamo riusciti a risvegliare lo spirito associativo e anche di sensibilizzare tantissime persone. Sono a conoscenza di altre associazioni che stanno provando in queste ultime ore a regalare anche loro un sorriso. Questa è la cosa più bella. Oggettivamente siamo veramente contenti e fieri del lavoro di squadra che abbiamo fatto, di tutti i direttivi e di tutti gli associati. Nel solco della continuità e tradizione della sezione aega di Palmi. Anche quest'anno abbiamo voluto fare un gesto di solidarietà per le famiglie più bisognose della comunità palmese. Naturalmente è una goccia nell'oceano, ma a volte un piccolo gesto conta più di mille parole. Io vi lascio con questa frase pensando che possa essere un buon Natale per tutti, per tutte le famiglie e cercando di mettere in luce che quando si è uniti si possono fare anche tante piccole cose che magari possono dare solidarietà e un minimo di beneficio a chi non è fortunato come noi. L'Associazione Italiana Giovani Avvocati della sezione di Palmi in questo da sempre è stata molto sensibile. Un buon Natale per tutti e avremo modo di vederci poi nel proseguo delle attività che faremo come sezione palmese. Un gesto importante quello che hanno fatto gli avvocati qui della sezione di Palmi? È stato un gesto importante e molto significativo per la situazione di pandemia che stiamo vivendo in questo tempo e in questo periodo. È stato un grande regalo che abbiamo ricevuto per dare appunto un sorriso come hanno coniato il motto. È un onore per noi aver ricevuto questa loro attenzione che va ad aiutare le famiglie che la Caritas Parrocchiale aiuta settimanalmente. Abbiamo 120 famiglie che assistiamo con i vivere ogni settimana e quest'anno abbiamo voluto dare qualcosina in più per questo Natale, che sia un Natale di speranza, di amore e di pace per tutti. Grazie a tutti gli avvocati che hanno collaborato in questa iniziativa e che sia davvero un Natale di pace. Grazie a tutti.